In concomitanza con la cessazione della carica del sindaco di Mammola, Antonio Longo, la Giunta dell'Unione dei Comuni, Valle del Torbido, ha nominato nuovo presidente il primo cittadino di grotteria Salvatore Leoncini. Vicepresidente sarà il sindaco di Gioio Saionica, Salvatore Fuda. Leoncini, al fine di rendere operativo lente, ha nominato il segretario generale dell'Unione, la dottoressa Maria Luisa Calì, e ha conferito le deleghe ai sindaci componenti dell'esecutivo. A Salvatore Fuda sono state affidate politiche per l'ambiente, raccolta differenziata e sviluppo sostenibile, politiche del lavoro, sociali, giovanili per l'accoglienza e pari opportunità. Il nuovo sindaco di Mammola, Stefano Rascallà, si occuperà di pianificazione territoriale, trasporti e mobilità e promozioni dell'identità della valle. Al sindaco di Marina di Gioiosa, Domenico Vestito, è stata confermata la competenza in tema di bilancio risorse umane, innovazione tecnologica, polizia locale e politiche per la sicurezza. Al sindaco di San Giovanni di Gerace, Pino Vumbaca, politiche energetiche, sistema idrico integrato, programmazione e progettazione opere pubbliche. A Giorgio Imperitura, sindaco di Martore, sono state assegnate cultura, sport, istruzione e turismo. Il presidente Salvatore Leoncini ha tenuto per sé attività produttive, politiche per l'agricoltura e protezione civile.